Una bimba di 17 mesi sfuggita ai bombardamenti di Kiev con la mamma è arrivata a Bologna ieri sera con un volo della guardia di finanza e una ragazza di 22 anni scappata insieme alla sorella diciottenne con mezzi propri fino alla Romania e poi giunta sabato sera nel capoluogo emiliano in Pullman. Due storie diverse ma accomunate dalla stessa malattia, il tumore e dallo stesso approdo. Le due pazienti oncologiche sono state infatti accolte e ricoverate al policlinico Sant'Orsola di Bologna dove potranno continuare le cure ed eseguire gli interventi chirurgici necessari. Insieme a loro è arrivata sempre con il volo della guardia di finanza atterrato a Bologna una sedicenne scappata a piedi con la madre e il fratello, anche lei è malata oncologica ma in buone condizioni ed è stata accolta dalla casa Ageop. L'intreccio di storie è stato raccontato questa mattina davanti al padiglione di pediatria del Sant'Orsola proprio dalla direttrice di Ageop Francesca Testoni che nei giorni scorsi aveva più volte lanciato appelli per riuscire a portare in Italia i piccoli pazienti oncologici rimasti in Ucraina. La piccola Mariana, la bimba di 17 mesi, doveva essere operata a Kiev il primo marzo ma l'ospedale era fuori uso. Si è salvata perché per fortuna aveva una nonna che abitava in campagna e sono usciti subito da Kiev. La piccola, che è già stata sottoposta a terapie nel suo paese, è affetta da un tumore solido piuttosto impegnativo, ha spiegato l'oncoematologo Riccardo Masetti. La 22enne invece è ricoverata in ortopedia oncologica al policlinico, ha un tumore maligno al bacino, è stata sottoposta alle terapie nel suo paese ma è impossibilitata a fare l'intervento chirurgico che invece nelle prossime settimane sarà eseguita a Bologna. L'accoglienza però non si ferma qui. La regione sarebbe pronta a prendere in carico decine di bambini oncoematologici che necessitano di cure specialistiche, anche per trapianti che verranno collocati poi in tutta la rete ospedaliere della regione. Al momento non sembra però un'operazione semplice. L'ultimo censimento ha numeri drammatici e parla di circa 1500 bambini oncologici ancora sul territorio ucraino. Più i bombardamenti si avvicinano al confine polacco, più diventa difficile pensare che senza una mediazione questi bambini possono arrivare.